Ciao a tutti, oggi faccio questo video su richiesta appunto di un componente sempre del gruppo che come molti ci chiedono dei video per spiegare alcune cose che magari non riescono a capire visto che magari chi inizia da poco, chi non ha mai fatto questa caccia e faccio questo video molto molto importante, una cosa che spesso non viene presa in considerazione come si deve cioè l'appoggio dell'arma e il discorso dello scatto allora partiamo dall'appoggio, l'appoggio che ovviamente qui è un rest professionale questo è il massimo appoggio che si può ottenere per quanto riguarda il tiro o addirittura anche chi vuole per la caccia con regolazione di altezza e deriva, quindi qui si appoggia la nostra carabina e basta praticamente premere il grilletto poco ci manca per avere un risultato, per avere un tiro quasi perfetto quindi le nostre tarrature, almeno la nostra almeria, le facciamo tutte da questo appoggio per evitare qualsiasi errore umano dopo un appoggio del genere che ovviamente è portarsi alla caccia una cosa un po' ingombrante si passa al sacchetto, classico sacchetto sul quale appoggiamo la nostra arma questo si può corredare anche per un altro piccolo sacchetto da appoggiare dietro se no come in molti quando ci appoggiamo posizioniamo il nostro braccio dietro poi ovviamente in base a dove si spara come si spara si riesce a posizionarsi alla perfezione però con l'incavo della mano si prende questa parte sotto la punta del calcio, si rotea il braccio, si appoggia la spalla destra, vedete? io ho l'appoggio sia sul mio braccio, sia dietro al calcio, sia sulla spalla e sia davanti quindi diciamo che con una posizione così io riesco ad avere un'ottima stabilità per un tiro di precisione quindi sacchetto anteriore e se è possibile anche quello posteriore in mancanza di ciò si tiene la mano così non così e si spara mi raccomando, deve fare la rotazione del gomito così appoggiati così si riesce a vedere quasi la perfezione se non abbiamo la possibilità di portarci magari un sacchetto, un rest perché cacciamo alla cerca ci muoviamo tanto, la roba da portare deve essere minimo indispensabile come ovviamente sta capitando sempre di più soprattutto all'estero ma anche da noi l'utilizzo del bipiede il bipiede è questo sistema che viene usato soprattutto anche nel tiro ma anche nella caccia in cui si appoggia queste due aste sul portascinghia ora questo non è per questo modello però per capire si appoggia la nostra carabina su di esso è abbastanza stabile e si riesce a sparare in massima comodità molto utile, molto stabile fondamentale per chi spara a lunghe distanze soprattutto nelle Alpi che spesso si spara da sdraiati a terra ovviamente lo zaino fa lo stesso servizio del non l'ho portato qua oggi però lo stesso servizio dell'appoggio anteriore che vi ho appena fatto vedere molto più pratico diciamo lo zaino che si porta dietro anche durante la caccia classica il fodero, un fodero in tessuto come questo qua cioè forse tutto può essere utile per poter posizionare al meglio che si può la nostra arma facendo una palla così col fodero ci sappiamo già sopra l'arma meglio di nulla come si dice noi funziona però diciamo il bipiede per chi spara magari da sdraiato a lunghe distanze è quello più comodo, più leggero, si può trovare sia in acciaio che in alluminio si può regolare, questo è un modello fisso però ci sono dei punti come adesso questo ha solo due posizioni o aperto o chiuso vedete però ci sono di quelli che si possono regolare anche in diverse tipologie e diverse altezze ci sono da banco che sono quelli più piccoli da caccia che sono i medi e da tiro magari anche a lunga distanza o da caccia che sono quelli più alti di tutti con i quali si può sparare anche appunto in ginocchioni o addirittura a sedere quindi ecco ci sono di tre misure e ogni ditta le fa come ti pare cioè ha più spazi, ha più livelli, insomma si possano fare come ci pare detto questo è in più, è comodo perché non dà ingombro visto che quando sono chiusi, vi faccio vedere non posizionatemi il bipiede così perché capite che quando si apre oppure se per sbaglio si appoggia la calciatura della nostra carabina va a toccare il bipiede quindi oltre a suppare tutto il calcio succederebbe un problema questo si mette sempre rivolto in avanti in maniera che se capita ad appoggiare l'arma oppure se la porto io quando apro si rimanga sempre in questa posizione che se sparo non si chiuda altrimenti si rischia di fare questo dopo lo sparo si chiude appunto il nostro bipiede se non si può montare niente perché magari io ho bisogno dell'arma ancora più leggera oppure non mi trovo con il bipiede oppure non posso portarmi il sacchetto o il resto o ne altana porto il classico treppiedi treppiedi regolabile che adesso si fa come ci pare praticamente dicendo questa leva si alza e si abbassa c'è la frasica forcella da appoggiare per appoggio dell'arma questo si apre si apre così si appoggia qui ci va appoggiata ovviamente la carabina e si regola in base al terreno in cui si trova questo si può svitare e montare addirittura degli appoggi grandi così che prendono in due pezzi la nostra carabina e si può usare tranquillamente il bastone come questo treppiedi ci si posiziona a sedere nei campi e si appoggia frontalmente la carabina questo è un altro sistema molto molto usato dalle nostre parti dove magari i tiri non sono esagerati è comodo ci si appoggia l'arma e si spara nei 100 metri poi chi è più bravo spara anche a 300 anche a di più però diciamo che un appoggio del genere un sacchetto con l'appoggio dietro sullo zaino un bipiede sdraiato in terra è sempre l'appoggio migliore quindi dove è possibile sdraiatevi a terra sullo zaino in maniera da poter appoggiare questi questa è la cosa fondamentale nel tiro quando io appoggio i miei gomiti facciovi un esempio quando io appoggio i miei gomiti così non ho ho il minimo dell'oscillazione cioè mi muovo sempre il minimo cioè la mia difficoltà è solo spostare l'arma trovare l'altezza ma al momento che trovo è stabilissima l'arma se io invece vado a ad esempio metto di girato così appoggio vedete che anche se io c'è questo appoggio devo sempre tenere l'arma ferma al millimetro perché basta toccarla appena l'arma spara completamente da un'altra parte in più sono più sottoposto a fare l'errore dello strappo quando sparo ora sparando troppo troppo velocemente però vedrete che se fate una prova se vi appoggiate con i gomiti l'arma sta più stabile se non vi appoggiate e tenete così come si fa molto come si può sparare appunto con il bastone perché non ha un appoggio per il gomito si muoverà molto di più la carabina quando l'arma inizia a muoversi tanto state fermi non sparate prendete fiato calmatevi ripartite l'adrenalina la fatica e le emozioni fanno fare questi brutti errori parlando dello scatto arrivo al punto della richiesta del video questa è una scizata 550 modificata dal cliente si può trovare in altre versioni non così anche se la 550 oramai non si trova più lo stacker stacker che si può trovare su tantissime armi vi faccio vedere da vicino lo stacker funziona in questo modello azionando i ghiletti in avanti si manda in avanti il pollice con il pollice e si arriva a sparare con la leggera pressione dello scatto e parte col cosa succede se io inserisco lo stacker e non sparo lo stacker è armato basta sfiorarlo vedete che si disarma o spara in questo caso si è disarmato se avete sentito la differenza con lo scatto di prima è stato molto più debole quindi se io voglio disarmare l'arma faccio un esempio esce l'animale con lo scatto diretto ovviamente il peso è nettamente superiore allo stacker al grilletto alleggerito quindi non voglio sparo a lunga distanza voglio usare lo stacker mando avanti il grilletto si blocca in questo modello ne sto parlando appoggio il dito e a un certo punto mi fa questo rumore qua vedete lo stacker si è disarmato guardate ve lo faccio vedere piano piano si è disarmato ma l'arma è completamente carica cioè armo lo stacker sentite la differenza ora il colpo è partito ve ne accorgete perché quando l'arma è carica qua c'è un piccolo pulsante che esce almeno in questo modello se io sparo il pulsante entra dentro se capita che io sparo questo con tutti i modelli dalla Sauer Ticca Saco Sabatti Horizon tutti i modelli quasi tutti chi ha un grilletto solo le armi che hanno un solo grilletto una volta inserito lo stacker ha un disarmo dello stacker cioè se io prendo il grilletto lo spingo io faccio così verso la la telecamera e al retro si disarma quindi arriva l'animale mentre sto per sparare l'animale scompare non posso sparare per sicurezza disarmo lo stacker perché quando lo stacker è armato basta la minima vibrazione per far partire il colpo quindi attenzione c'è qualcuno che mette lo stacker proprio per evitare questo rumore sentite davanti all'animale che comunque può capitare che l'animale lo senta lo mette appena arriva sull'altano sulla posizione di caccia è molto molto pericoloso è come avere una mina in mano la stessa cosa alla minima vibrazione o se non è inserito bene può partire un colpo quindi lo stacker si mette solo davanti all'animale se l'animale va via si prova a disarmare toccando il grilletto il problema è un altro è che se io ho uno stacker parecchio sensibile come metto il dito così rischio di far partire il colpo quindi cosa si fa stacker inserito metto la sicura come vedete qui aziono la mia sicura prendo con le punta delle dita lo stacker e tiro indietro l'arma è completamente in sicurezza e non spara perciò lo stacker o lo disarmate da qui se siete bravi se no mettete la vostra carabina in sicura alcune armi si disarmano automaticamente altre come questa metto in sicura e accompagno lo stacker arriva torna l'animale riappare l'animale levo la sicura armo il mio stacker e sparo quindi ecco questo è una cosa molto fondamentale non vi preoccupate se a volte davanti all'animale non parte il corpo perché semplicemente avendo preso il grilletto magari dalla parte sul lato o avendolo premuto dalla parte sbagliata si è disarmato lo stacker quindi molti cosa fanno non parte il colpo distinto ti viene di premere il grilletto classico e parte il colpo quindi non è che non spara è semplicemente che è stato disarmato il grilletto perciò questo era per rispondere a quelle componenti del nostro gruppo che per due volte il grilletto gli ha fatto cilecca ma non è che l'arma non andava era semplicemente il discorso di disarmare state molto attenti quando si spara con le carabine prendetevi il tempo giusto quando vedete che nella croce l'animale si muove non è che si muove l'animale l'emozione la furia magari l'animale sta per entrare non azzardate mai un colpo cercate sempre di sparare quando siamo sicuri sembra una cosa scontata ma non è così perciò tratteniamo il fiato per chi non lo sapesse arriva al selvatico metto lo stacker chi ha lo stacker chi non ha lo stacker può sparare direttamente mi posiziono bene appoggio sulla mia arma mi posiziono ora io faccio un esempio come se sparassi da appoggiato a terra mi posiziono bene sulla sulla mia arma che sia un sacchetto che sia un treppiedi che sia un resto un bipiede quello che vi pare cosa succede regolo ovviamente la messa a fuoco regolo lo zoom più è buio durante la notte meno ingrandimenti bisognerebbe usare quindi se io sparo alla sera al crepuscolo meno ingrandimento uso più luminosità ottengo però ovviamente se devo sparare a 300 metri bisogna che l'ingrandimento lo metta se non sparo semplicemente alla sala regolo l'ingrandimento regolo il parallasse se sparo molto lontano quindi se ho l'opportunità di avere un'ottica con un parallasse con la correzione del parallasse e so che sparo a una certa distanza e voglio mettere tipo sparo a 300 metri a un camoscio voglio mettere il parallasse a 300 metri tutto fa bisogna essere dritti nella croce mi raccomando perché se si spara se siamo storti vedete la posizione giusta è quando siete appoggiati che state bene che non c'è nessun muscolo di corpo che forza non vi piazzate così perché si veda la croce male come capita spesso perché poi si rischia di fare questa cosa qui attenzione di andare qua che qui ti spacchi tutto il sopracciglio quindi quando succede problemi che si prende le botte nell'ottica o è disattenzione o sono ottiche montate troppo indietro troppo arretrate oppure perché magari si spara in salita e ci avviciniamo così se io sparassi in questo momento mi apro il sopracciglio cosa succede a chi caccia spesso nelle altre l'angolo di sito cioè sparare in discesa o sparare in salita conta conta più di quello che si possa pensare più sicuramente secondo me del parallasse però lì bisogna essere molto bravi a saperlo quantificare spesso si tara carabine ovviamente si cerca di sparare sempre in linea poligoni sono quasi tutti centrali cioè sparo altezza dritto verso di me non con i gradi di inclinazione quello bisogna essere molto bravi magari farsi aiutare da chi è più esperto per poter calcolare quello quell'escursione lì che porta la palla a sparare più alto del punto mirato quindi lì bisogna anche essere capaci di fare questo se ci sono molti manuali molte armerie molti cacciatori vi possono consigliare su quella cosa lì ovviamente la qualità dell'arma come è avvitata gli attacchi gli anelli la canna pulita tutto fa munizionamento e quant'altro qui si parla però della base cioè messa a fuoco ingrandisco se ho il correttore parallasse lo metto l'inclinazione quella andrebbe calcolata ci sono degli strumenti anche appositi quando il selvatico che magari sta pascolando a 200 m io sono perfetto sono fermo metto lo stacker trattengo il respiro e piano piano come se io stringessi la mano cioè sparare l'errore facciamo tanti ora è fare questo e tutti quasi tutti lo facciamo se non tutti tutti lo facciamo indistintamente i più bravi lo fanno dopo è partito il colpo e anche se sei uno come me che lavora da tanti anni in armeria e ne spara praticamente quello che spara un calciatore normale in un anno io lo sparo in tre ore spesso capita spesso capita questa cosa qui la differenza è che ormai sparando tanto il mio inceppamento il mio strappo avviene dopo che la palla è uscita dalla canna però se fate una prova a vuoto vedrete che anche sapendo che non c'è l'arma a volte succede questa cosa che non c'è scusate il colpo in canna spesso succede che proprio si fa questo verso questo è la causa che porta al mancato centramento del colpo quindi piano leggero si trattiene il respiro per non far cercare fa cercare di mantenere un po' più la stabilità sull'ottica e leggermente si fa come stringere la mano come stringere il pugno leggero leggero finché non parte il colpo questo e se tutte queste procedure sono state fatte correttamente il risultato è che il proiettile colpirà il bersaglio ovviamente poi va calcolato quanto cala quanto non cala questo esempio un'ottica che ha le torrette regolabili qui c'è il punto rosso diciamo che ora i sistemi per arrivare a una buona centratura dei bersagli insomma ci sono tutti fino a 200 metri vi consiglio cioè si vede anche armi che hanno un certo valore munizioni di un certo costo ottiche di un certo livello trovare la differenza tra top gamma la gamma media non si vede si vede pochissimo da 200 a 300 ragazzi vi posso garantire che conta tutto conta la qualità delle munizioni conta la qualità dell'ottica degli scatti attenzione delle armi e soprattutto di chi è dietro l'arma cioè io parlo a livello di tiro il selvatico si può abbattere tranquillamente anche con una semiautomatica an 308 con un'ottica da battuta se si prende ma non è può essere per un caso 2 3 però non è la la precisione la precisione non ci interno non sto parlando di fare una rosata come si dice così a 300 metri sto parlando di abbattere un animale se io sparo a un capriolo che hai un bersaglio vitale di queste dimensioni qua serve una qualità superiore è lì che vi posso garantire per esperienza nei 300 metri a 300 metri scusate conta tante tante cose qualità e si capisce perché un pacco esempio di norme di rvs costano 70-80 euro a pacco è lì la differenza noi facciamo molto spesso il calcolo perché devo comprare una cartuccia che costa 80 euro quando posso fare la stessa con una da 25 perché noi siamo persone che il 90% spara entro i 150 mesi se si sparasse tutti sopra i 200 vi posso garantire che la qualità si inizia a vedere veramente poi bisogna vedere i calibri bisogna vedere più il calibro è piccolo più la qualità si vede perché le palle perdono potenza perdono aerodinamicità a quelle distanze si vede tante cose però diciamo che limitatevi chi inizia a fare bersaglio nei 200 metri secondo il mio punto di vista armi preparate bene munizioni adatte alle carabine poi c'entra anche il discorso che magari quella pallottola pur costando 100 euro a pacco non lavori bene nella rigatura della vostra arma quindi lì bisogna trovare la palla giusta per il passo di rigatura delle vostre carabine l'arma magari è tutto perfetto ma ho una vite allentata e quando sparo non mi concentra la rosata cioè queste vi faccio vedere una carabina del genere i punti salienti sono per primo le viti della calciatura che siano strinte bene secondo le viti degli anelli che siano strinte bene quindi che non oscillino che non si muove questa è un'arma che ha gli anelli direttamente sul fusto quindi salta un passaggio più complicato che sono le basi quindi spesso abbiamo viti serrate anelli montati bene le basi che vanno sotto che sono su quasi tutte le carabine otturatori con due viti lenti quindi praticamente l'ottica pattina tra la carabina e l'ottica l'ottica montata correttamente la canna che sia pulita e sdramata ad hoc se è possibile almeno prima della stagione venatoria l'ottica è molto difficile trovare un'ottica che spari male come è molto difficile trovare una carabina che spari male ovviamente mi sto parlando a livello di caccia cioè magari può essere che non si trova la munizione lì per lì però nel 2023 carabine che proprio vengano sostituite perché sparano male a livello caccia nei 300 metri è molto molto raro trovare cioè una volta che ho curato la mia arma che ho trovato la mia munizione che ho un appoggio perfetto che mi limita a sparare dov'è la mia possibilità perché attenzione ragazzi non basta avere un oggetto da 5000 euro per sparare a 300 metri spesso neanche a 200 bisogna andare a poligoni sparare vado al poligono faccio pratica tre colpi due nei magnum sparo questo è un 6-5 per esempio sparo tre colpi faccio raffreddare la mia canna mi prendo un caffè perdo tempo chiacchiero mi rilasso e risparo se volete fare la rosata poi perché nel tiro a lunga distanza soprattutto da 200 metri in su conta tantissime tantissime cose quando magari è caldo e si inizia a guardare si vede male il reticolo calma non c'è furia perché a quelle distanze lì un minimo strappo del nostro dito invece di fare un centimetro ne fa 10 quindi mi raccomando attenzione qualità se è possibile delle armi che si usano non badate a spese se siete persone che vanno a caccia che usano e che sparano a lunghissima distanza ovviamente ci sono tante armi meno blasonate dei marchi più famosi che rendano benissimo tra questi anche appunto CZ però quello che conta più dell'arma più delle cartucce più di tutto è andare a sparare sparare e farsi aiutare da direttori di poligono per capire appunto dove si sbaglia perché vi posso garantire che fino a 200 qualche santo ci aiuta da 200 a 300 cambia completamente il mondo chi è abituato a sparare a lunghissime distanze magari 300 metri per loro sono come noi i 100 però chi caccia in Toscana il 90% si spara quasi sempre in 300 metri queste sono cose fondamentali perciò quando si spara a un animale visto che comunque anche se a volte si prendono bene non si trova sangue non si vede l'effetto perché magari sulla colpo l'arma è saltata quindi quando si spara andare sempre a vedere perché vi posso garantire che ho ritrovato animali presi al cuore mortale dopo 100 metri come li ho ritrovati sull'Anschutz dove sono stati colpiti come ho preso degli animali magari in pancia si sono allungati e sono stati persi perché la foglia di sparare ha fatto piazzare un colpo male quindi ecco diciamo manteniamo sempre il range in cui uno può sparare chi è poi bravo e vuole azzardare ma si sente in grado di farlo lo può anche fare però ricordatevi che è un animale anche preso bene tante volte non si vede l'effetto più lontano sparo più è difficile vedere sia l'effetto sia ritrovare il punto appunto in cui si trova l'animale perché molte volte sparo lontano da qui che arrivo a vedere al punto in cui l'animale è stato colpito è calata la sera non ritrovo il punto e magari l'animale è stato preso in pieno la palla non sempre attraversa il corpo del selvatico e l'animale è a 20 metri morto e così si fa solamente cioè si leva la vita a un animale senza senza altra soddisfazione quindi attenzione quando si spara non è che se sono munizioni che sfondano tre cararmati tra un po' devono per forza sfondare un corpo come quello di un selvatico quindi cercate di piazzare bene i vostri colpi nel dubbio non sparate perché vi ripeto quando un animale viene preso in un punto non vitale è molto molto difficile che rimanga sul posto e figuratevi succede anche quando si prendano bene quindi se si prende bene dietro la spalla tantissime volte il selvatico parte per farli rimanere sul posto o si intacca la spina dorsale o il collo o la testa se no è molto raro che rimanghino proprio sul posto questi sono tutti i consigli che mi hanno chiesto e cerco di dare nei nostri piccoli video alla prossima ciao Grazie a tutti.